ciao ragazzi allora oggi guida su rugnor sfolgoro questa sarà una guida principalmente per farmare delle fasi alte del ragno con una certa strategia che ora vediamo e nel caso vi dirò se volete usarlo da qualche altra parte come modificare la build che vi sto per mostrare allora intanto conosciamo rugnor la sua prima destrezza attacca un nemico e mette può mettere questo debuff sanguisuga la seconda destrezza è un po particolare sacrifica hp equivalenti al 15 per cento dei sui max hp dopodiché si riempie il contatore di turno del 75 per cento e si piazza un buff scudo pari al 20 per cento della propria vita quindi perde vita e guadagna scudo questo buff scudo non può essere rimosso e il sacrificio di hp accadrà anche se dovesse uccidere questo campione poi la terza destrezza che è quella importante per questo campione piazza un buff aumento attacco del 50 per cento su questo campione per due turni dopodiché attacca un nemico ha un con i tomi 100 per cento di probabilità di piazzare un debuff indebolimento del 25 per cento sull'obiettivo per due turni e inoltre ha un altro 100 per cento di probabilità di piazzare un debuff riduci difesa del 60 per cento sull'obiettivo per due turni prima di attaccare quindi molto importante mette sia indebolimento che riduci difesa e poi abbiamo la passiva che riduce di un turno i tempi di ricarica della destrezza barlume d'avarizia che è la terza destrezza ogni volta che questo campione perde il 15 per cento di hp la perdita di hp viene accumulata e monitorata in più turni attacchi o colpi e non è influenzata da guarigioni o altri aumenti di hp cioè se con un colpo ne perdiamo 10k e poi col colpo successivo altri 10k ci vengono contati i 15k e ne restano altri 5 mila di vita che magari serviranno per attivare un'altra volta questa passiva quindi è un modo che lui ha per usare questa sua terza destrezza il più possibile e magari per riusarla più velocemente quando usa questa seconda destrezza perché perde il 15 per cento dei suoi max hp e quindi fa attivare la passiva che riduce di un turno il tempo di ricarica di questa destrezza allora quindi questa destrezza molto interessante nel caso in cui qualcuno di voi non abbia un leggendario come rasin come dragomorfo che riesce a mettere indebolimento e riduci difesa ok dragomorfo lo mette anche su tutti i nemici quindi magari diciamo più paragonabile a rasin che con la sua seconda destrezza mettere due difesa indebolimento su un nemico per due turni poi abbiamo questa aura che aumenta l'attacco degli alleati nella torre sventura del 35 per cento io ora vorrei parlare innanzitutto dei tomi e poi passiamo a quella che è la build visto che la destrezza fondamentale è questa è la terza destrezza i tomi qui ragazzi sono fondamentali dobbiamo arrivare a questo 100 per cento di possibilità altrimenti non funziona quello che vogliamo fare perché dove vogliamo usare noi questo rugnor vogliamo usarlo contro il ragno in particolare in un team del genere contro ragnoventi con un team del genere quindi senza neanche un leggendario io posso farmi questo questa roccaforte in una ventina di secondi come funziona rugnor attacca prima degli altri mettere due difesa e indebolimento e poi le due core glaciale e guardia reale uccidono il boss potrei anche giocarlo senza mostro mal creato diciamo è una scialuppa di salvaggia nel caso in cui le cose dovessero andar male con i colpi delle due core glaciale e di guardia reale però appunto la strategia è quella di mettere riduce difesa indebolimento prima che gli altri attacchino quindi se noi non mettiamo i tomi e capitiamo in quel 25 per cento di possibilità di non mettere indebolimento riduce difesa e noi magari non possiamo sconfiggere il ragno e perdiamo quindi tomi davvero importantissimi su questa terza destrezza se sulle altre non vanno a finirci va bene comunque l'importante è che riempiate questa terza destrezza quindi siccome rugnor deve mettere riduce difesa e indebolimento prima che gli altri campioni attacchino è importante che sia il più veloce di tutti quindi tanta velocità però anche tanta precisione perché dobbiamo riuscire a piazzare quei debuff quindi le due statistiche fondamentali da aumentare su questo campione sono la velocità e la precisione ora se guardate il resto della mia build tutti gli altri numeri sono abbastanza bassi a parte il tasso decisivo che io ho messo al massimo guardate che rugnor è ancora 5 stelle questa strategia funziona benissimo anche con rugnor 5 stelle magari vi serviranno dei manufatti migliori per arrivare a questi numeri di velocità e precisione con un campione 5 stelle quindi senza uno standard o precisione però comunque è fattibile anche sacrificando le altre statistiche infatti vedete che ancora io ho qualche manufatto addirittura all'8 o al 12 ora vi farò vedere manufatto per manufatto come l'ho vestito però le uniche due statistiche fondamentali per lui sono la velocità e la precisione neanche l'attacco cioè praticamente lui al livello 50 non fa danno quindi anche se non gli riempite l'attacco infatti la corazza l'ho lasciata al 12 potevo mettere anche un altro tipo di corazza magari ora parliamo di varie alternative va benissimo comunque l'importante che mettiate tanta velocità in modo da farlo diventare il più veloce di tutti e tanta precisione diciamo almeno 200 per le roccaforti in modo da fargli mettere quei due debuff quindi io sono andato con tre set che mi dessero 40 di precisione quindi un set precisione due set percezione mi aumentino anche un po la velocità quindi ora vi mostro tutti i manufatti e praticamente sono andato a puntare soltanto come sotto statistica su velocità o precisione o sono riuscito a far arrivare il tasso decisivo al cento per cento ma diciamo non è importante vedete non ho neanche messo dei glifi praticamente perché l'unica cosa che gli importa per questo tipo di build per affrontare il ragno con un team del genere è soltanto avere velocità e precisione non ci serve tenerlo in vita perché la run finisce molto molto presto quindi se voi volete usarlo esclusivamente per il ragno se non avete un campione come dragomorf se non avete un altro campione ora magari parliamo di un paio di alternative allora usate rubnor in questo modo qua uno potrebbe anche usare rasin il problema di rasin contro ragno 20 è che il boss è verde quindi rasin con la sua seconda destrezza potrebbe anche fare dei colpi deboli e non mettere questi due debuff e quindi la run vi fallisce immediatamente quando rasin fa il colpo debole quindi non va bene ci vuole un campione non rosso un altro campione possibile per affrontare ragno sarebbe ragno quello dei degli elfi oscuri eccolo qui anche lui mette riduci difesa indebolimento però anche lui è rosso quindi stesso problema di rasin perché io vi sto parlando di riduci difesa indebolimento ovviamente la cosa può potrebbe funzionare anche per un campione che metta soltanto riduci difesa quindi non so un campione come cavaliere cervino soltanto che in quel caso è praticamente impossibile uccidere il ragno con solo tre colpi quindi come faccio io con cuore glaciale cuore glaciale guardia reale servirebbe magari un'altra guardia reale o un altro cuore glaciale oppure septimus che possa fare la stessa cosa quindi fare tanti danni al boss quindi fare quattro attacchi potenti quindi la strategia potrebbe funzionare anche con un riduci difesa e quattro attacchi potenti nel caso in cui voi come me ne abbiate soltanto tre allora ci vuole un campione come rugnor come dragomorfo che io uso abitualmente che metta sia riduci difesa che indebolimento per fare ancora più danni al boss poi parliamo del tasso e del danno vi ho detto non è necessario perché comunque rugnor attacca mette quei suoi debuff e poi ci pensano gli altri a uccidere il boss se invece voi volete usare rugnor per qualcos'altro tipo non so volete portarlo nelle roccaforti volete portarlo nelle cripte di fazione o anche nella torre sventura allora dovreste buildarlo diversamente a seconda di quello che volete fare con lui tipo per le cripte di fazione visto che i nani hanno molti campioni molto difensivi magari su di lui potremmo puntare ad aumentare di molto l'attacco il tasso decisivo e il danno decisivo quindi ci possiamo concentrare sul fargli fare sul fargli fare molti molti danni in altri casi tipo non so la torre sventura potrebbe servirci soltanto per mettere dei debuff allora lo vogliamo far sopravvivere non ci importa dei danni allora potremmo mettere una corazza vita percentuale potremmo addirittura fregarcene del tasso del danno e andare a mettere non so dei guanti vita percentuale o difesa percentuale per appunto farlo sopravvivere ancora di più quindi varie strategie a seconda del posto in cui vogliamo usare rugnor e a seconda del team che vogliamo affiancare a rugnor in questo caso è un team ultra offensivo che deve shottare il boss in un solo turno o in due turni al massimo come per per quanto riguarda cuore glaciale quindi possiamo dargli la vita e la difesa sufficienti a farlo restare in vita tipo io non mi ci sono concentrato così tanto perché ho mostro mal creato che me lo protegge ma anche se rugnor dovesse morire dopo che ha fatto questa destrezza qua diciamo non importa perché avrebbe già fatto il suo lavoro a livello di maestrie ragazzi queste sono le mie maestrie guardate non servono assolutamente se con la build vi può aiutare arrivare al 100 per cento di tasso e mettere un po di danno mettete queste due qua se vi può aiutare questa qua mettendo un po di precisione in più o anche questa che ve lo aumenta di 20 al primo colpo quindi appena rugnor fa per la prima volta la sua terza destrezza o anche questa che ve lo aumenta di 4 per ciascun nemico in vita fino ad un massimo di 16 può andar bene come ultima maestria negli altri casi potete andare tipo prendere il maestro bellico se volete concentrarvi di più sui danni se vi serve qualcun altro che faccia dei danni o se volete portarlo tipo nella torre sventura o avete grossi problemi con la precisione potreste anche andare a prendere quest'ultima destrezza blu per dargli 50 di precisione quindi andiamo ad affrontare il ragno ragno 20 parte rugnor perché il più veloce di tutti mettendo i suoi due debuff il riduce difesa lo mette addirittura anche prima quindi fa anche un po più di danno e poi partono le core glaciale purtroppo con la seconda destrezza e poi abbiamo i tre colpi potenti quello di guardia reale vedete rugnor prende un paio di colpi e poi ci pensano le core glaciale a chiudere la partita l'ho fatto in 18 secondi senza un leggendario quindi il mostro mal creato li serve soltanto per proteggere gli altri miei alleati nel caso in cui qualcosa con le ultime maestrie di core glaciale o guardia reale dovesse andare male cioè se io non dovessi ignorare il 25% della difesa con tipo più di una volta con gli attacchi delle mie varie core glaciale o di guardia reale e quindi non dovessi riuscire a uccidere il boss al primo attacco pesante e magari mi servirà qualche turno in più e ci pensa mostro mal creato a proteggermi gli altri se non avete mostro mal creato provate con o con un altro campione che metta degli scudi quindi in grado di proteggere scudo o protezione alleato o qualcosa del genere o magari date per scontato che il vostro campione morirà e quindi magari mettete un campione come scilla dei draghi che possa riportare in vita o anche stordire i regnetti per tenerli a bada oppure gorgorab insomma qualcuno del genere se non avete rubnor una valida alternativa potrebbe essere fein perché anche lei con la terza destrezza attaccando un nemico può mettere sia riduce difesa che indebolimento quindi funziona tutto quello che abbiamo detto in questo video funziona anche con fein perché essendo verde non può fare dei colpi deboli e anche qua dovrete mettere tutti i vari tomi della terza destrezza e renderla la più veloce di tutti che magari potrebbe essere un problema se voi usate fein contro il boss del clan e quindi avete delle velocità settate e non volete aumentare di troppo la velocità di fein per questo mi sono concentrato a fare un video su rugnor perché appunto in questo caso rugnor lo usereste soltanto per farmare ragno per fare soltanto ragno e quindi poi potete usare altre velocità negli altri campioni che vi servono magari in posti più importanti detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto spero vi sia stato utile se avete ovviamente delle domande su rugnor fatemele pure nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima line ciao ciao ragazzi ciao